Voga 2016 inizia, presentati, parla di te, in una parola... no! Mi sono già presentato con il Voga 2015. Scherzi a parte, sono Grizzly, benvenuti nel mio laboratorio. Comincia oggi la maratona del vlog ogni giorno d'agosto. Come ho fatto l'anno scorso, in aprile, ho fatto il vlog Everyday in April sul mio secondo canale in inglese, e adesso, in agosto, questi 31 giorni del mese di agosto, ho intenzione di ripetere l'esperienza di realizzare un vlog al giorno, per tutti i giorni. Saranno vlog brevi, saranno vlog senza montaggio, mi limiterò ad accendere la telecamera, parlare, spegnere la telecamera e caricare il video, anche se tutti i vlog avranno comunque i sottotitoli in lingua italiana per i non udenti, come faccio con tutti i video che ci sono sul mio canale. È un'abitudine, soprattutto in video che durano un minuto, un minuto e mezzo, cercherò di restare sotto il minuto, tranne questo primo vlog in cui spiegherò un po' come funzionano le cose, quindi ci tengo soprattutto che tutto quanto resti secondo le abitudini. Comunque dai, è un modo simpatico di muoversi un po' durante l'estate, è un modo simpatico di interfacciarsi con i propri iscritti, spero di non annoiarvi in questi 31 giorni. Vi ricordo, se state partecipando anche voi a questa maratona, di farmelo sapere con un commento qua sotto, vi ricordo che qua sotto sul doobly-doo trovate anche il link al calendario in versione Google Calendar, in versione iCal per importarlo sul vostro dispositivo, se volete. Se volete partecipare, se avete degli argomenti che volete trattare ogni giorno, trattateli tranquillamente. Il giorno che dice che cosa posso parlare oggi, vi manca l'argomento, guardate tranquillamente il calendario. Gli argomenti ovviamente non sono obbligatori, io ho realizzato questo calendario per realizzare appunto 31 argomenti, cosicché anche chi dice «Va bene, voglio partecipare, ma non ho la più pallida idea di che cosa parlare» ci sono 31 giorni con 31 argomenti, 31 cose di cui parlare tranquillamente. Tutto nel doobly-doo, fatemi sapere se state partecipando, io sono Grizzly, noi ci vediamo domani e naturalmente ci vedremo anche ogni domenica con Diario di Viaggio on the road, oltre alla Maratona Voga che continua. Bene, di nuovo io sono Grizzly, ciao a tutti e a domani! Grazie! 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 Grazie!